Il lifting chilometrico, ossia l'abbassamento del chilometraggio delle autovetture in vendita a fine di aumentarne il valore economico, è stato al centro di una fitta indagine da parte dei carabinieri della provincia di Salerno, che hanno effettuato una lunga ed articolata serie di verifiche presso i rivenditori che insistono su tutto il territorio provinciale, portando anche alla denuncia di 22 soggetti operanti in 19 comuni del Salernitano, tra cui numerosi comuni del Vallo di Diano e del Cilento. La truffa, che consiste nell'abbassamento dei chilometri effettuati da un'autovettura attraverso una manomissione dei contachilometri, è un fenomeno sempre più diffuso e si sta anche rivelando un vero e proprio flaggello dell'attività di vendita di autoveicoli usati. Attraverso tale pratica, infatti, si altera il valore reale del veicolo, favorendo un aumento del prezzo. In tal modo, però, la sicurezza del veicolo stesso viene di conseguenza artefatta, diventando anche potenzialmente pericoloso. Ciò avviene perché, attraverso l'abbassamento del chilometraggio, l'effettuazione dei controlli periodici non risulta più allineato con i chilometri realmente percorsi. A tutela dei consumatori ed in ottica di verifiche per la sicurezza stradale, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini, è partita quindi l'indagine. L'attività investigativa ha permesso di controllare 110 rivendite di auto nei comuni di Salerno, Sapri, Agropoli, Sala Consilina, Eboli, Battipaglia, Vallo della Lucania, Mercato San Severino, Nocera Inferiore e Amalfi. Ed alcuni dei titolari delle rivendite controllate sono stati denunciati per il reato di frode in commercio. 22 soggetti denunciati operanti nei comuni di Castelnuovo Cilento, Cannalonga, Tramonti, Minori, Padula, Sala Consilina, Teggiano, Montesano sulla Marcellana, Scafati, San Marzano sul Sarno, Pagani, Sant'Egidio di Montalbino, Celle di Bulgaria, Castel San Giorgio, Rocca Piemonte, Mercato San Severino, Siano, Casalvelino e Ascea. Tutti titolari di rivendite di autovetture. Il meccanismo delittuoso utilizzato consisteva nel sottoporre il mezzo ad una revisione anticipata anche di un anno rispetto al periodo previsto, ma prima di effettuare la verifica veniva ridotto fittiziamente il chilometraggio dell'auto. La frode è stata scoperta comparando i dati storici delle revisioni effettuate sulle vetture estrapolati dalla Banca dati della motorizzazione civile con il chilometraggio riportato sull'ultima revisione nonché su quello del display del mezzo oggetto di verifica. In tal modo è emersa l'inequivocabile incongruenza tra i chilometri molto più alti della penultima revisione e quelli ridotti dell'ultima e la conseguente denuncia per frode in commercio. Al termine della verifica sono inoltre stati sequestrati ben 61 veicoli.